Sembra proprio che il secondo fuorionda diffuso da striscia alla notizia abbia inflitto un colpo quasi mortale alla carriera di Andrea Giambruno. Ha voltato le spalle all'illustre giornalista. E ora sembra che non sia stata solo Giorgia Meloni a essere responsabile. Benvenuto su Febbre da Gossip. Prima di scoprire gli ultimi dettagli di questa vicenda, vogliamo ricordarti di premere il pulsante iscriviti e di condividere il tuo supporto con un mi piace. La tua partecipazione è preziosa e ci aiuta a continuare a fornire contenuti di qualità. Ti ringraziamo di cuore per il tuo sostegno. Anche Mediaset, che ha dichiarato di stare conducendo un'attenta verifica dei fatti, potrebbe presto scaricare il conduttore di Diario del Giorno. Il clima è teso, e mentre Antonio Ricci garantisce alla Meloni di averle fatto un favore, l'azienda del Biscione sta effettuando le proprie valutazioni su quanto accaduto. In particolare, Mediaset sta indagando sulla possibile violazione del codice etico aziendale. Nel caso in cui queste violazioni vengano confermate, Gian Bruno potrebbe ricevere una lettera di sospensione, con coinvolgimento degli organi sindacali. Nel tardo pomeriggio del venerdì 20 ottobre, Mediaset ha annunciato che il conduttore di Diario del Giorno su Rete4, d'accordo con la direzione della testata, ha deciso di autosospendersi per una settimana dalla conduzione del programma. L'autosospensione a parte, la permanenza di Gian Bruno in Mediaset sembra essere ora in bilico, appesa a un filo, soprattutto dopo il secondo fuorionda diffuso da Striscia la Notizia. Ti ringraziamo per averci seguito. Ti invitiamo a lasciare un commento alla fine del video e a iscriverti al canale attivando la campanellina per non perdere i prossimi aggiornamenti. Grazie per aver guardato questo video. A presto con un nuovo contenuto.